La campagna continua ad essere interessata da un flusso di correnti umide occidentali che rinnovano condizioni di tempo instabile con piovaschi sparsi che interessano maggiormente il settore occidentale. Una nuova perturbazione attesa nella giornata di domenica 24 con formazione di un minimo depressionario sul terreno meridionale. Per sabato 23 novembre la situazione meteorologica prevede cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore nord-accidentale della regione. Dalla serata la nuvolosità aumenterà anche sulle rimanenti aree con possibilità di precipitazioni nel corso della notte. Temperature lieve temporaneo aumento, venti da deboli a moderati, da libeccio in ulteriore rinforzo dalla serata. Mari da mossi a molto mossi con moto ondoso in ulteriore aumento della serata. Per domenica invece 24 novembre il cielo sarà molto nuvoloso ovunque con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio. I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità nelle aree a ridosso dei rilievi esposte ad ovest. Temperature in lieve diminuzione, venti moderati occidentali con tendenza a disporsi da nord dalla serata. Mari mossi. Per lunedì sono previste condizioni di variabilità con occasionali piovaschi nelle aree montuose, più soleggiato lungo la costa dove però insisteranno venti moderati da nord-est. Da martedì 26 novembre è previsto invece il consolidamento di un campo di alta pressione con conseguente netto miglioramento ovunque. Fase di tempo stabile dunque che dovrebbe durare almeno fino a giovedì 28 novembre. Ma per maggiori dettagli a consultare il sito internet www.meteosette.it www.meteosette.it